L'uscita numero 3 della pista 1 della discoteca lanterna azzura di Corinaldo, quella dove morirono sei persone a causa della calcale nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso, presentava diverse difformità dalle norme di riferimento. Altezza e capacità di deflusso insufficienti, pendenza elevate, carenza di un corrimano centrale, balaustre laterali inidonee a resistere ed in pessimo stato conservativo. Queste sono le risultanti della perizia depositata dai consulenti l'ingegner Marcello Mangione, colonnello delle Genio Carabinieri e il professor Costanzo Di Perna, ordinario di fisica termica ambientale della Focoltà di Ingegneria della Politecnica delle Marche, che sono stati incaricati nell'inchiesta che vede 9 indagati per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, un decimo indagato e un diciassettenne sospettato di aver spruzzato sostanza urticante nella discoteca, ma che sostiene che non era nel locale al momento della tragedia. Tra le altre difformità rilevate, l'assenza dalla pista numero 1 di cartelloni per indicare il punto di raccolta in caso di esodo. Due locali guardaroba ubicati in modo tale che l'uso poteva costituire un ostacolo al deflusso del pubblico. Inoltre segnali luminosi carenti per indicare ai presenti la via più breve per mettersi in salvo. All'esterno poi un albero copre completamente la visuale di un'uscita di sicurezza ed anche un divanetto davanti all'uscita di emergenza 6 ne impediva a chiunque il passaggio. Riguardo alla maledetta uscita 3 dove si è consumata la strage, i consulenti hanno rilevato errore di altezza pari a 187 centimetri invece dei 2 metri di prescrizione. La pendenza del 20% della rampa invece che del 12% scalinata a ventaglio sdrucciolevole e capacità di deflusso pari a 37,5 pensone modulo rispetto a 50 del progetto antincendio. Inoltre le balaustre che avevano segni di elevata corrosione non erano idonee a sopperire alle spinte d'affollamento. Si è andati anche alla ricerca della famosa sostanza urticante che ha scatenato il fuggifucci generale e in che modo è stata propagata nel locale. A questo riguardo le canaline dell'aria condizionata sono risultate prive di capsaicina, il principio attivo dello spray al peperoncino come anche le tubature del riciclo dell'aria. Rimane ora da attendere il responso del RIS sui campioni d'aria prelevati dai carabinieri la sera stessa della tragedia e dal mattino seguente. Grazie 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 Grazie